La 53esima edizione della Sagra del Pesce ha chiuso con il botto numeri straordinari martedì sera a Pozzallo per il concerto di Arise in Piazza delle Rimembranze che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni e ha fatto sì che la tre giorni chiudesse in crescendo. La cantante tra l'altro nel pomeriggio era stata ricevuta a Palazzo Lapira dove il sindaco Roberto Matuna e gli altri componenti dell'aggiunta le avevano fatto dono di alcuni prodotti realizzati da artigiani locali. Poi in serata la sua performance che è stata semplicemente straordinaria oltre che applauditissima dai numerosi spettatori presenti. Tre giorni intensi, tre giorni che segnano la ripartenza. Ci aspettavamo un segnale importante ma è andato al di là di ogni più rosa previsione, commenta il primo cittadino tracciando un primo bilancio della manifestazione. Per noi era importante caratterizzare l'estate con l'evento della Sagra che affonda le radici nella nostra tradizione. Non a caso parliamo di 53 edizioni ma allo stesso tempo intendevamo creare le condizioni per gettare le basi di un futuro dell'evento che alla luce dei risultati raccolti si annuncia molto interessante. Stessa chiave di lettura per il vice sindaco e assessore al turismo e spettacoli Raffaele Monte. C'è stata la consapevolezza sin dall'inizio del traguardo che si doveva raggiungere, sottolinea quest'ultimo, e devo dire che remando tutti verso la stessa direzione abbiamo concretizzato l'obiettivo di rilanciare la Sagra del Pesce dopo gli anni della pandemia. Da qui la necessità di ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, Claudio Prestopino per l'agenzia Fratellone Event Management di Messina, per l'organizzazione dell'Area Food, la Marcello Canizzo Agency per gli spettacoli che hanno reso più ricca la tre giorni. Inoltre, sottolineiamo ancora una volta che a patrocinare la Sagra del Pesce è stata l'Assemblea regionale siciliana, nonché la regione siciliana con l'assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo, oltre all'assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. In più, anche il libro Consorzio Comunale di Ragusa è stata una bella festa e ringraziamo tutti coloro che ci sono venuti a trovare e si sono divertiti assieme a noi, oltre a tutti i nostri concittadini, per la loro presenza in piazza e per aver apprezzato l'offerta proposta. Già nei prossimi mesi saremmo impegnati nella programmazione 2023 per la Sagra 3.0 in sinergia con la città. I numeri della tre giorni, oltre 20.000 specialità di pesce in modalità street food consumati e 4.000 kg di prodotto lavorato nelle 15 casette allocate in piazza. Le specialità più richieste sono il coppo di paranza, la pasta con il pesce spada, il polpo con le patate e il couscous. Fin qui il comunicato stampa, adesso ascoltiamo la riflessione del vice sindaco e assessore al turismo e allo spettacolo della città di Pozzallo, Raffaele Monte, raccolta dal nostro direttore Piero Giunta. Ascoltiamo. Allora, assessore Raffaele Monte, in questi tre giorni per la 53esima Sagra del Pesce, Pozzallo è stata letteralmente invasa da tanti turisti e da tante persone provenienti da tutta la Sicilia. Possiamo dire un successo. La sua riflessione, assessore Raffaele Monte. La Sagra del Pesce, che è arrivata alla 53esima edizione, davvero si è chiusa con una grandissima partecipazione di pubblico. Ma in tutti e tre giorni, in questa offerta che abbiamo dato, abbiamo visto grande partecipazione e soprattutto abbiamo visto grande soddisfazione da parte del pubblico intervenuto per questa modalità diversa con la quale quest'anno si è voluto proporre ai nostri ospiti le specialità di pesce. E mi riferisco alla modalità street food. Un modo nuovo di concepire la Sagra. Una Sagra, l'abbiamo definita 3.0, proprio perché la Sagra, secondo noi, ha bisogno di rinnovarsi come target e di presentarsi ad un pubblico ancora più vasto. Davvero, le presenze sono state tantissime. Diventa impossibile quantizzarle. Ci sono delle foto, davvero, che sono state pubblicate sui social, che fanno vedere Piazza delle Rimembranze, davvero strapiena e stracolma di gente in tutte e tre giorni e in particolare all'ultimo giorno proprio nel concerto di Arisa. Oltre 20.000 le specialità di pesce in modalità street food consumate dai nostri ospiti. Oltre 4.000 chili di prodotto lavorato. Un'offerta davvero che è piaciuta. Sicuramente siamo già al lavoro per l'edizione del 2023, perché dobbiamo fare tesoro di questa esperienza, che comunque, per quanto ci riguarda, si chiude davvero in maniera positiva. Positiva per la parte food, e quindi per questa modalità street food proposta, ma anche per tutta una serie di iniziative collaterali che ci sono state, di spettacoli, ma anche un interessante convegno sul buon cibo, sulla sicurezza alimentare, sull'agroalimentare nostro, che abbiamo fatto in collaborazione con l'Associazione Italiana dei Celiaci, ma anche in collaborazione con la regione siciliana, con l'assessorato regionale all'agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea. Quindi archiviamo questa edizione con grande soddisfazione, ma ripeto, ci proietteremo al futuro in maniera, come dire, più fiduciosa, provando sempre a dare ai nostri ospiti, che quest'anno sono stati tantissimi provenienti da tutta l'Italia, anche dall'estero e soprattutto dalla vicina Malta, ripeto, provando a dare ai nostri ospiti un prodotto di qualità per innalzare ancora di più il livello della nostra sagra, che ancora una volta rappresenta il culmine della nostra estate pozzallese. Un'estate pozzallese che ancora continua, con tutta una serie di concerti, proprio stasera è previsto il concerto di Lello Analfino dei Tinturia, ma si continuerà con altri concerti, con serate danzandi, con il teatro, il teatro popolare, il tutto per dare un'offerta quanto più vasta possibile ai nostri gentili ospiti. Grazie Piero e grazie agli ascoltatori di Radio Dimensione Musica. Ringrazio l'assessore al turismo e allo spettacolo della città di Pozzallo, Raffaele Monte, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.